L'amministrazione di Ventura non pervenuta. Insomma, cosa fanno sindaco e assessori? A cosa stanno lavorando? Quale progetto stanno portando avanti? E' finita la fase della start-up della raccolta differenziata che sembrava aver riempito l'agenda politica della giunta di Ventura e adesso cosa dicono i cittadini? Nulla, perché non c'è nulla. Anzi, ci sono i problemi di sempre, quelli irrisolti, quelli che il sindaco giusto aveva detto in campagna elettorale che avrebbe risolto. La realtà è sotto gli occhi di tutti. Uno, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La città è più sporca. Sono nate diverse discariche abusive nelle zone di periferia ma anche nel centro cittadino e al foro Boario. E' una discarica abusiva a cielo aperto. Due, le scuole. Che fine hanno fatto i progetti per la sistemazione della Rapisardi e della Carruba? A che punto è la ricerca di finanziamenti? I progetti antincendio sono stati finanziati? Le scuole di competenza comunale sono dotate di certificato di agibilità? Insomma, è garantita la sicurezza dei bambini che frequentano le scuole della città? La piscina comunale, che recentemente abbiamo scoperto essere stata vandalizzata e distrutta, continuerà ad essere abbandonata o sarà restituita alla pubblica fruizione dei cittadini? Il progetto per la sistemazione dello stadio Carlotta Bordonaro a che punto è? Per quanto tempo ancora la squadra di calcio locale dovrà peregrinare per la Sicilia alla ricerca di uno stadio con il manto in erba sintetica in cui poter disputare le partite? Ma l'amministrazione lo capisce che sono soldi sottratti all'economia locale e in particolare dei bar e dei luoghi di ritrovo. Ma davvero pensano di continuare ad utilizzare il centro culturale di San Domenico per fare show cooking e feste di casta? E il Consiglio comunale pensa ancora di poter star muto? I consiglieri, siano essi di maggioranza o di opposizione, sono corresponsabili del fallimento di questa giunta. La maggioranza perché è sorda, la minoranza perché è muta, pensando che i cittadini non vedano. Ma come vedono e se vedono? Non vedono l'ora di dare il ben servito a chi sta umiliando politicamente questa città. Restano due anni di questa giunta di ventura che, tranne due goffi tentativi di sfiducia, è sempre rimasta a galla. Almeno in questi due anni i cittadini sperano in un sussulto di dignità, perché si può essere inadeguati a ricoprire qualsiasi ruolo, ma non si può perdere la dignità e farla perdere ad una città intera.